Ogni ora spesa a guardare la tv può accorciare la vita del telespettatore di 21,8 minuti. Una nuova ricerca pubblicata nel British Journal of Sports Medicine ha raccolto dati su 100.000 australiani al di sopra dei 25 anni di età. Lo studio ha rivelato che chi guarda la tv 6 ore al giorno si può aspettare di vivere 4,8 anni in meno rispetto a una persona che non guarda la tv e ha concluso che guardare troppa tv è pericoloso tanto quanto fumare o essere in sovrappeso. È un dato di fatto e c'è speranza. Puoi estendere la tua aspettativa di vita semplicemente schiacciando un pulsante, quello del telecomando. Considera forme alternative di relax e intrattenimento che riducono la sedentarietà e comportano una presenza maggiore di attività fisica nella quotidianità della tua famiglia. Cosa aspetti allora? Spegni la tv e vivi una vita più sana e più lunga.